Musica Pullman precipitato da un cavalcavia a Mestre, 21 morti, il cordoglio della Calabria. Una scena apocalittica, la barriera del cavalcavia divelta e il pullman finisce giù sulla strada, a fianco della ferrovia e prende fuoco. La tragedia a Mestre è di 21 morti, tra cui due bambini e 15 feriti, il bilancio ufficiale. Le vittime sono di diverse nazionalità, a bordo c'erano anche cittadini ucraini, tedeschi, francesi e croati. L'autista era italiano e risulta tra le vittime. Diverse le prime ipotesi sulle cause tra le quali un possibile malore di chi era al volante. La procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo. Nelle prossime ore saranno analizzate le immagini delle telecamere di sicurezza puntate sul cavalcavia per capire meglio la dinamica dello schianto. Il sindaco Brugnaro proclama il lutto cittadino. Alle famiglie delle vittime del tragico incidente arriva il messaggio di cordoglio della Calabria. La giunta della regione Calabria esprime le più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime coinvolte nel tragico incidente di Mestre. Siamo vicini al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e al presidente della regione Veneto Luca Zaia che in queste ore stanno vivendo insieme alle loro comunità un gravissimo lutto. Così Roberto Chiuto, presidente della regione Calabria. Sgominato drive-in dello spaccio nella Locride. È di venerdì scorso un'operazione dei carabinieri della compagnia di Roccella Ionica i quali, supportati dai militari dello squadrone Liportato, Cacciatori Calabria e dal nucleo Cinofili di Vibo Valencia hanno arrestato un 51enne di gioiosa Ionica in ottemperanza all'ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Locri. Il provvedimento cautelare ha recepito le risultanze investigative raccolte negli ultimi mesi dai carabinieri che diretti dalla Procura della Repubblica di Locri attraverso l'esecuzione di numerosi servizi di osservazione appostamenti, pedinamenti, registrazioni video e intercettazioni telefoniche hanno documentato un fiorente attività di spaccio di cocaina al dettaglio da parte di un gioio sano noto alle forze dell'ordine e gravato da precedenti specifici. In particolare l'uomo aveva allestito presso un casolare di sua proprietà situato in un'area isolata di campagna un vero e proprio drive-in dello spaccio attivo ad ogni ora del giorno. Per i numerosi acquirenti che giungevano da ogni parte della Locride era sufficiente transitare in auto in prossimità della finestra del casolare e senza nemmeno dover scendere dal veicolo, effettuare l'ordinazione, ritirare la dose e consegnare il denaro nelle mani dello spacciatore. Contestualmente all'esecuzione della misura cautelare sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari che hanno permesso di sequestrare svariate migliaia di euro in contanti e numerose dosi di stupefacente, di cui alcune scovate all'interno della guarnizione di una lavatrice grazie al determinante fiuto dei cani del nucleo cinofili. Al termine delle operazioni l'arrestato è stato condotto presso il carcere di Locri a disposizione dell'autorità giudiziaria che provvederà ad accertare le sue responsabilità nelle opportune sedi di giudizio. Frode fiscale, riciclaggio e somministrazione illecita di mano d'opera, perquisizioni anche in Calabria. Frode fiscale, riciclaggio e somministrazione illecita di mano d'opera. I finanzieri del Comando Provinciale Milano, su delega della Procura della Repubblica di Monza, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso nei confronti di numerose persone e società in Lombardia, Liguria, Puglia e Calabria. L'articolata indagine condotta dai militari del gruppo Sesto San Giovanni ha permesso di disdivelare l'esistenza di un'insidiosa organizzazione dedita al riciclaggio di proventi illeciti, derivanti da un'articolata frode fiscale nel settore dei servizi alle imprese. Nel sistema fraudolento sono allo Stato coinvolte a vario titolo 9 persone, nonché 18 società attraverso cui venivano illecitamente veicolati i flussi di denaro. Le perquisizioni eseguite da oltre 90 finanzieri appartenenti a diversi reparti del Comando Provinciale hanno permesso di sequestrare rilevante documentazione contabile, extracontabile ed informatica. L'operazione di servizio è stata supportata da unità cinofile e cash dog specializzate nella ricerca di banconote. Gli accertamenti investigativi si sono concentrati su una società brianzola operante nel settore dell'imballaggio e confezionamento che si è rivelata vero e proprio epicentro di una fitta rete di numerosi altri soggetti economici operanti in molteplici settori, logistica, trasporti, servizi di pulizia e sicurezza, i quali, basandosi sull'emissione di fatture false per 50 milioni di euro e mancato versamento di contributi previdenziali, riuscivano a fornire ai clienti finali mano d'opera a prezzi nettamente inferiore a quelli di mercato, effettuando di fatto una somministrazione illecita di mano d'opera basata su contratti di appalto non genuini. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e quindi la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo dove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Le investigazioni hanno consentito anche di rilevare come i proventi delle attività illecite venivano riciclati attraverso il trasferimento di somme su conti correnti intestati a soggetti compiacenti che venivano poi prelevate in contanti e retrocesse agli artefici della frode. A Frico i carabinieri scovano quattro fucili e decine di munizioni. Ieri mattina i carabinieri della stazione di Bova assieme ai colleghi dello squadrone riportato Cacciatori Calabria nel corso di una vasta attività di controllo del territorio anche nelle zone più impervie finalizzate alla ricerca di armi, munizioni e sostanze stupefacenti hanno rinvenuto ad Africo Vecchio nascosto in un affratto naturale del suolo un piccolo arsenale composto da due fucili monocanna artigianali calibro 4.10 privi di matricola un fucile monocanna Beretta calibro 28 con matricola punzonata e un fucile monocanna marca Beretta calibro 16 provvisto di matricola. Sul posto i militari hanno inoltre scovato oltre 70 cartucce calibro 4.10 e 40 cartucce calibro 28 Le armi e le munizioni che si presentano in buono stato sono state sequestrate e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'attività descritta fa parte del più ampio progetto di controllo del territorio portato avanti con determinazione dall'arma dei carabinieri con la collaborazione di tutti i reparti speciali che concorrono con il loro determinante contributo nell'assicurare ai cittadini un crescente clima di sicurezza e legalità con azioni proiettate anche nelle zone più remote del territorio. A Vibo gioielliere è ingannato online l'utente non paga la polizia rintraccia una donna. Un gioielliere di Vibo Valencia aveva denunciato alla polizia di Stato di essere stato truffato da un cliente che a seguito della contrattazione online per l'acquisto di alcuni gioielli del marchio Gerardo Sacco con dei raggiri era riuscito a convincerlo a spedire la merce con urgenza atteso che il prezioso sarebbe stato un regalo per un'imminente festività riservandosi di pagare subito dopo. Nonostante i reiterati tentativi da parte del negoziante di ricevere il dovuto pagamento l'interlocutore ha continuato per diverse settimane ad accampare scuse e giustificazione per il mancato pagamento delle somme pretese ritenendo per sé i beni indebitamente sottratti. La vittima ha così deciso di rivolgersi alla polizia per sporgere formale denuncia querela per la truffa online che aveva subito. A seguito delle attività d'indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valencia ed esperite dagli investigatori della squadra mobile anche attraverso complesse indagini informatiche si giungeva alla compiuta identificazione della donna che si era appropriata dai gioielli indebitamente sottratti alla gioielleria e al recupero degli stessi mediante mirata perquisizione presso il domicilio dell'indagata. Esce dal coma 15enne caduto da altalena nella villa di Vibo. Si è risvegliato dal coma il ragazzo di 15 anni caduto rovinosamente a terra sabato sera dall'altalena della villa comunale di Vibo Valencia. A causa della gravità delle ferite riportate era stato immediatamente ricoverato all'ospedale pugliese di Catanzaro. Sottoposto a intervento chirurgico nel pomeriggio di ieri è stato trasferito nel reparto di rianimazione a quello di chirurgia dove resterà in osservazione ancora per qualche giorno. Il miglioramento delle condizioni di salute ha indotto i medici ad avviare le procedure di risveglio del ragazzo dal coma farmacologico. Il 15enne studente del liceo scientifico di Vibo si è così risvegliato venendo disposto il trasferimento in un altro reparto. Proseguono intanto le indagini da parte della polizia della questura di Vibo Valencia per fare piena luce sull'incidente ed accertare eventuali responsabilità per l'accaduto. Il ragazzo non era da solo nella villa comunale e la polizia ha proceduto a sequestrare l'altalena al fine di compiere tutti gli accertamenti del caso. Cinque anni fa la tragedia di San Pietro Lametino oggi messa in ricordo di Stefania, Cristian e Nicolò. Cinque anni senza Stefania, Cristian e Nicolò oggi è il giorno del ricordo nel luogo dove la giovane mamma e i suoi bambini di due e sette anni persero la vita durante un'alluvione sulla strada di San Pietro Lametino. Alle 15 i familiari e amici si uniranno in preghiera. Sono passati cinque anni da quel dramma che ha scosso un'intera comunità e che ancora oggi mantiene vivo il loro ricordo. Ieri sera inoltre si è svolta una messa nella chiesa di Santa Caterina all'Obrea Mortilla di Gizzeria dove la famiglia viveva. La vicenda processuale scaturita dalla tragedia di San Pietro Lametino è stata caratterizzata da lunghi stop e rinvii. A distanza di nove mesi dall'ultima udienza è ripreso a luglio il processo con la testimonianza in aula dei familiari che hanno ricostruito gli ultimi e fatali istanti di vita di Stefania e dei suoi bambini. In particolare sono state ascoltate le persone con cui la donna entrò in contatto attraverso il telefono prima che tutte le comunicazioni si interrompessero. In aula avvocati, giudici e test si sono soffermati sulle telefonate le richieste d'aiuto tra Stefania, il marito, il fratello e un'altra donna. Sono in tutto cinque le persone finite sotto processo dopo il rinvio a giudizio stabilito dal GIP del Tribunale di La Mezzia Terme a seguito delle indagini effettuate dalla Procura Cittadina guidata da Salvatore Curcio. Si tratta di Antonio Condello, Floriano Siniscalco, Francesco Paone, Giovanni Antonio Lento e Cesarino Pascuzzo. Sono un imprenditore agricolo, un dirigente e tre dipendenti della provincia di Catanzaro. Tutti i familiari delle vittime già nelle fasi preliminare del giudizio si sono costituite parti civili. Si tratta dei genitori della giovane donna e delle sorelle, del padre dei piccoli Angelo Fria e della sua famiglia. Il processo riprenderà il prossimo 4 dicembre con udienza dedicata all'ascolto e alla testimonianza degli agenti che per primi sono intervenuti sul luogo della tragedia. La sera del 4 ottobre 2018 Stefania è a bordo della sua alfamidio in compagnia dei suoi due figlioletti Nicolò di due anni e Cristian di sette anni sta percorrendo la strada provinciale 113 dirigendosi da San Pietro a Maida verso San Pietro Lametino. Tornano a casa dopo aver trascorso il pomeriggio dai nonni perché la mamma lavorava. E' buio, la pioggia è battente e la strada comincia ad allagarsi. Ad un certo punto nei pressi del chilometro 5 Stefania perde il controllo dell'auto e sbanda fermando la sua corsa di traverso rispetto alla carreggiata e con parte sinistra della mito esposta al flusso dell'acqua. La donna nota secondo le indagini avrebbe notato che l'acqua stava entrando nell'abitacolo e spaventata il buio e la pioggia la disorientano. Istintivamente cerca di mettere al sicuro i suoi due bambini abbandonando il veicolo e uscendo dalla portiera sul lato del passeggero. Appena si allontanano da qualche metro il forte flusso d'acqua li travolge violentamente tra il fango e i detriti. Non vedendoli rientrare a casa era stato il padre Angelo a lanciare l'allarme dopo le venti di quella maledetta sera poiché non riusciva più a mettersi in contatto con loro. Partono le ricerche i corpi della mamma e del figlio maggiore vengono ritrovati esamini di lì a poco mentre il corpicino del piccolo Nicolò è stato rinvenuto solo dopo sette giorni di ricerche ininterrotte coperto di fango a 500 metri di distanza dal luogo dell'incidente. Una tragedia che la comunità lamettina tutta non dimenticherà mai. La situazione nella frazione Novalba di Cardinale Numerose le segnalazioni dei residenti della frazione Novalba di Cardinale per quanto riguarda la pulizia del piccolo centro delle preserre catanzaresi con erbacce dappertutto panchine fatiscenti e anche nel piccolo campo di calcetto. Davanti alla struttura della guardia medica c'è da sistemare le reti di ricinzione e controllare la pericolosità del campetto stesso. Queste sono le immagini. di ricinzione di ricinzione di ricinzione Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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